La ASLA numero 2 del Comune di Chieti hanno organizzato uno screening di massa Covid per i prossimi due fini di settimana, quello del 6 e 7 e quello del 13 e 14 febbraio. Per l'effettuazione dello screening sono state individuate sei postazioni, tra le quali il Palauda in Via De Vessini a Chietiscalo. L'Università è il luogo di per sé debutato a organizzare, quindi abbiamo messo a disposizione il nostro Palauda, che è una struttura di circa mille metri quadri, con tutti i servizi connessi e non connessi, che ha tutte le possibili, anche dal punto di vista strategico, importante come luogo, perché è adiacente al campus e quindi alle ASLA, ma è completamente un parcheggio autonomo. Abbiamo, come avrete potuto vedere, sistemato tutte le varie distanze di sicurezza, eccetera. C'è una grande collaborazione con l'ASLA, naturalmente, perché tutte queste cose facendo sistema ci confrontiamo continuamente con l'ASLA, con il Direttore Generale e quindi diciamo che partiamo per questa campagna di screening da sabato, da domani. Inoltre, su iniziativa del magnifico Rettore Sergio Caputi, è stato organizzato uno screening gratuito, con tampone rapido, riservato a tutti gli studenti, docenti ed i dipendenti dell'Ateneo. Questa è una nuova iniziativa, sempre volta da parte dell'Università verso il territorio. Voi sapete come la Gabriele D'Annunzio sia non solo presente in questo territorio, con la sua importante azienda sia su Chieti che su Pescara, ma in questo momento, così difficile della pandemia, ha voluto fare sistema. Per docenti, studenti e personale universitario, dunque, sarà possibile accedere al test rapido. A partire dalle ore 15 di lunedì 8 febbraio, le attività di monitoraggio proseguiranno per l'intera settimana, fino a venerdì 12 febbraio prossimo, con due turni che copriranno l'intera giornata e con i seguenti orari, mattina dalle 9 alle 14 e pomeriggio dalle 15 alle 19. Saranno attive tre postazioni.